Maurizio Fugati, segretario nazionale della Lega Nord Trentino, avete consegnato 10.000 firme alla Presidente della provincia di Trento, per quale motivo? Perché in Trentino c'è un meccanismo di assegnazione dei sussidi pubblici tramite un coefficiente che si chiama ICEF, che alla conta dei fatti discrimina i trentini. Su 20 milioni di euro erogati nell'anno 2010, i beneficiari oltre la metà sono stranieri, non trentini. Questo perché il meccanismo è costruito e prevede dei meccanismi, a nostro modo di vedere, sbagliati. Quindi abbiamo fatto una campagna di un paio di mesi, abbiamo raccolto queste 10.000 firme, adesso le abbiamo depositate in Consiglio provinciale perché crediamo debba essere rivisto questo meccanismo. La Lega Nord quale meccanismi nuovi propone? Se su 20 milioni i beneficiari oltre la metà sono gli stranieri, vuol dire che bisogna far sì che all'interno dei sistemi statistici che regolano l'assegnazione del ICEF, chi è residente da più anni venga salvaguardato. Non è che perché uno ha 5.000 euro in banca ha risparmiato qualcosina nel tempo, deve essere, e magari è un disoccupato, deve essere trattato peggio di chi questi 5.000 euro non li ha perché magari li manda in un altro paese e non risparmia, non è stato previdente nel tempo, però è disoccupato. O chi magari ha un pezzo di orto perché l'ha ereditato dalla mamma, si vede superato dagli altri e questo pezzo di orto non ce l'hanno. Cioè ci sono tanti meccanismi per cui chi è trentino e ha delle risorse che magari ha risparmiato o ha ereditato e che oggi si trova disoccupato, non deve vedersi discriminato rispetto a chi queste risorse non le ha magari per scelta perché le manda al suo paese. Grazie.